È difficile che qualcuno faccia qualcosa che mi piace. Primo, perché partono sempre con la, diciamo, pregressa, convinzione che ci siano dei canoni. Per esempio fanno sempre cigolare la porta, mi fanno fingere di entrare, di scendere dalle scale, eccetera, eccetera. Queste sono cose che a me fanno un po' schifo, a me piacerebbe più. Secco, dai, entriamo subito senza tutte queste finzioni introduttive e convenzionali e banali e scolastiche. Vabbè, troppo.